Grazie Sì, preferisco fare prima il discorso, prima del giuramento Partendo da questi primi giorni di funzioni espletate Che la preoccupazione in questo momento è fortissima Per una situazione economico-finanziaria In cui versa lente Che mi preoccupi in prima persona Dovrà preoccupare l'intero Consiglio Comunale E dovrà preoccupare soprattutto i cittadini Noi sapevamo di avere una situazione economico-finanziare difficilissima Ma quanto abbiamo potuto verificare in questi primi giorni di amministrazione Va ben oltre quelle che erano le nostre previsioni Abbiamo verificato un debito verso la Iele Per il servizio di nettezza urbana Di 1.900.000 euro Debito fatto per gli anni 2009, 2010, 2011 E questi pochi mesi del 2012 Abbiamo verificato debiti Verso la Nappi Sud Di circa 200.000 euro Sempre per servizi legati al ciclo dei rifiuti Abbiamo verificato debiti Verso l'Enel Di circa 700.000 euro Abbiamo verificato Soprattutto Uno scoperto bancario Di 1.600.000 euro Questa è la situazione Che abbiamo verificato Ma Ha riguardato pochi ambiti Successivamente Faremo le verifiche approfondite Anche Negli altri settori Negli altri comparto Allora Segretario A questo punto Sì Giuro Di osservare Lealmente La Costituzione italiana 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 Grazie.